lariatto destinazione pura resu lo so non vi sono mancato per niente ma sono tornato finalmente a parlare della mia disciplina preferita il wrestling e dell'area geografica che preferisco nell'universo cioè il giappone ed eccoci qua io sono stefano ad una delle voci della tovela del ring una delle voci di lariatto una delle penne del libro di lariatto che tra qualche settimana finalmente troverà le stampe e sono qua per condividere con voi ciò che ho visto nella tocca joshi pro wrestling e ciò che ovviamente ha visto il co conduttore della trasmissione il buon mickey ciao mickey benvenuto ciao grazie mille allora com'è andato l'ultimo lariatto il 91 quando eri da solo eh ce l'ho fatta qui nel posto ti sei divertito eh ma allora sì ma non ma anche no cioè è complicato da solo non sono non sono ancora pronto sei prontissimo non ti preoccupare bene 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 abbiamo parlato già del torneo che la tocca joshi pro wrestling ha buttato in piedi ancora una volta per quest'estate la penne si scappa e sostanzialmente siamo arrivate alle battute conclusive abbiamo una vincitrice e oggi andremo a parlare dei tre match che sono andati a concludere sostanzialmente ciò che abbiamo visto abbiamo velocissimamente un nostro murasaki ronome riguardante eh un annuncio che hanno fatto in queste in queste ultime due giorni eh sul fatto che l'unico piccolo scambio che fa la tocca joshi è quella gatto move e in effetti abbiamo visto mei suruga nella giornata della semifinale andare contro risuendo la quale mici quando sarà ospite della gatto il quindici settembre mi sembra eh risuendo e su zoom faranno coppia eh nel prossimo show in arena della della gatto move che poi avrà come main event misura contro io la mizu mori e vediamo un po' poi cosa organizzeranno c'è anche una nuova trainee in gatto mucca appena ha debuttato mia ora per chiamarsi nome provvisorio per il momento poi vediamo come deciderà di chiamarsi ha fatto un'esibizione da tre minuti con misure che pensa sia comunque la sua allenatrice al momento vediamo un po poi cosa cosa fa in futuro sono contento comunque perché qualche nome nuovo ci vuole ogni tanto poi vabbè è ovvio che in tre minuti fai vedere poche niente poi intanto qualcosina inizia a prendere anche un po' di dimestichezza assolutamente assolutamente sì e chi non vorrebbe essere allenato da mei suruga bene 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 allora io direi eh dato che comunque l'episodio sarà abbastanza breve andremo a prendere alcune delle cose che ci hanno colpito di più di questi tre match eh ma parleremo soltanto di tokyo joshi uscirà un episodio tra un paio di giorni invece che parla dei primi tre giorni del torneo della noa quindi rimanete sintonizzati perché ovviamente escono cose non siamo fermi abbiamo preso una settimana un pochino più tranquilla dovuta anche alla mia malattia sono mi sono preso un influenzaccia e quindi sono stato a casa fisicamente ho guardato poco anzi praticamente niente ma sto recuperando un sacco per cui sappiate che tanti contenuti stanno per arrivare e ci avviciniamo anche al numero 100 di lariatto destinazione puro reso quindi partiamo con la prima semifinale andata in onda se non ricordo male sabato sabato 13 yukasakazaki batte suzume suzume è un nome particolare nella tokyo joshi non è un nome di spicco non è un nome di quelli altisonanti ma è una ragazza che noi abbiamo già insomma visto a cui abbiamo già messo gli occhi addosso per quello che potrebbe essere il futuro in questa compagnia è un buon personaggio si muove bene sa fare bene molte cose e probabilmente è una delle lottrici che più di tutte ci ha colpito in ottica diciamo next gen per quanto riguarda le ragazze da tokyo joshi purtroppo michi già da come erano andate le prime battute di questo torneo era abbastanza difficile che suzume riuscisse a battere questa yukasakazaki che abbiamo cominciato a vedere insomma già dall'incontro precedente con i cari noa essere abbastanza una schiaccia sassi molto determinata come piace dire a me driven ok cosa cosa ne pensi di questo match che abbiamo visto tra yukasakazaki e suzume il match è venuto sicuramente bene in realtà tutte e due le semifinali mi sono piaciute molto hanno alzato un po la settimanale meno importanti pecca qua in atto quando deve fare cose un po più difficile ma più impegnate è valida e mi dispiace un po per suzume perché ci speravo di avere una finale un po particolare con dentro anche lei però ci sta come dici te yukasakazaki ha entrati in modalità cyborg dall'inizio del torneo 20 non sentivi i colpi e ok quindi era anche difficile batterla però il match è venuto bene quindi sono comunque contento suzume scuola molto bar sia in singolo che in coppia l'aveva già dimostrato l'anno scorso con mi hai come coppia funzionavano molto anche quello che ha fatto con me su ruga comunque nel cos'è un mesetto fa più o meno forse di più non mi ricordo più quando era un comunque aveva lavorato bene anche lì in coppia quindi vediamo un po se ci puntano per le prossime volte per i prossimi eventoni o se la tengono lì sempre come buona sfidante ma mai per il passo successivo attendiamo attendiamo perché sicuramente è un nome che a noi suscita sempre qualcosa e la speranza di vederla in finale un minimo ce l'avevamo anche perché poi l'altra semifinale tra mio Watanabe e mio Yamashita finisce esattamente nel modo in cui teoricamente non t'aspetti ma che avrebbe portato sicuramente una finale particolare e molto come posso dire diciamo coraggiosa da parte da Tokyo Josh in questo caso invece mio Watanabe batte mio Yamashita in un match molto molto bello molto ben combattuto con una mio Watanabe che è riuscita non solo a sostenere la valanga mio Yamashita che è davvero molto forte molto brava molto precisa nello striking questa valanga non solo è riuscita a contenerla in qualche modo mio Watanabe ma la cosa che mi è piaciuto tanto e che è riuscita a fare questo giro è trovare tante contromosse che fossero per scelta una mossa contraria a quella di mio Yamashita o che fosse un modo particolare per schivare i colpi un modo in cui si abbassava si allontanava girava intorno all'avversaria ho visto veramente una mio Watanabe molto complessa da un punto di vista della strategia tu cosa mi dici Michi a quello sicuramente ha fatto vedere che non è solo forza che inizia metà c'è anche qualcos'altro inizia ad essere un po' più tecnica un po' più intelligente proprio anche come tipo di match quindi sono contento è comunque un nome che ormai la gente sa che a noi piace e speriamo sempre che riesca a fare qualcosa di più e finalmente iniziano a puntarci un po' comunque già avevano mandato in finale è già un passo avanti l'anno scorso sono arrivati in semifinale se non ricordo male magari l'anno prossimo c'era fatta vediamo però le valida e vediamo un po' poi cosa vogliono farci perché c'erano sempre i soliti nomi se no è quello che diciamo da mesi hanno quei tre nomi che continuano a far girare nel main event i titoli ce l'hanno sempre loro sarebbe bello anche far cambiare qualcosina e allora diciamo che c'è stata una grande assente che è la specialista di questa cup che si è infortunata è dovuto un attimo mollare è già tornata è niente di grande ha lottato sia sabato che domenica per le semifinali la finale quindi comunque non era un infortunio grave però infortunata inizialmente non ha potuto partecipare lei specialista diciamo della della cup perché le ultime due edizioni le ha vinte lei quindi no non proprio le ultime due che l'anno scorso l'ha vinta ma chito vero anche lei non c'era perché doveva andare in in gcw a cantare al matrimonio di matt cardona esatto questo il vero motivo era per cantare al matrimonio di matt cardona no comunque comunque è importante insomma vedere che qualcosina di nuovo sia mosso sono contento della sconfitta della yamasta a cui non serve un'altra vittoria contro il mio watanabe e che in realtà giustifica un percorso di un mio watanabe che ha lavorato veramente molto molto bene se non sbaglio ha battuto due ex campionesse in questo modo che dovrebbe aver battuto anche ricatazumi abbattuto ricatazumi si sciocco una pagina non si cercano che c'è ma che percorso ne fa quindi se che percorso ne ha fatto molto molto valido molto molto bello o un dubbio sulla tazione prova bello che comunque almeno almeno mio e sciocco da battute quindi in realtà già due dei nomi grandi del 2 dei tre nomi grandi dato che giocci li ha battuti in un solo torneo e potenzialmente col fatto che ha battuto ciò con la kajima può comunque dire vado per il titolo poi non succederà perché comunque il messi lo fanno poi a ottobre con la vincitrice della cup non c'è tempo non c'è tempo non c'è tempo vincitrice della cup che è yukasa kazaki che batte poi in finale mio watanabe allora finale da un certo punto di vista telefonata appunto lo dicevamo yukasa kazaki era molto concentrata la scrittura di questo torneo vedeva proprio lei vincere trionfare massacrare tutti mio watanabe non si è data per vinta fino alla fine ha lottato molto molto bene mi è piaciuta tanto anche in questo match non c'era storia ma fino a un certo punto nel senso che comunque hanno provato a raccontare di un yukasa kazaki che non cedeva a nessun tipo di colpo di mio watanabe ma mio watanabe che a un certo punto addirittura in lacrime durante il match mi è piaciuto un sacco quella parte decide di tirare fuori tutta la grinta che le è rimasta e non solo riesce a colpirla ma riesce anche a farla roteare sul ring come fa molte volte con le altre avversarie che le fa roteare prendendole per le gambe lei la prende per la testa e un braccio quasi in posizione da ghigliottina la fa roteare comunque perché non era riuscita prima a prendere in modo corretto per farla roteare c'è proprio si vede una mio watanabe che getta il cuore oltre l'ostacolo bellissima questa parte io sono onesto è la parte emotivamente più alta di questo match vittoria di un yukasa kazaki però che arriva con potenza con quella decisione quella determinazione che tra l'altro non si sposa tantissimo col suo volto ma in questo caso la concentrazione un po me l'ha portata a vedere veramente più cupa del solito quindi brava anche da un punto di vista recitativo forse le hanno detto guarda che è una competizione vera e sappiamo che quando sembra una competizione lei si incasina perché deve vincere però davvero mi è piaciuto proprio il suo atteggiamento devo dire che non mi piacciono i cyborg che vincono quasi senza colpo ferire però in questo caso è stata scritta molto molto bene hanno proprio fatto bene quelli dato che joshi tu mi dice c'è da vedere se è una cosa solo del torneo ossia poi pian piano la porta anche magari in coppia e adesso per un po penso starà lontano dei titoli di coppia e penso che starà molto vicino al titolo principale dato che joshi ok poi in coppia magari ci lotta lo stesso sì però non penso che vada con questo tipo di atteggiamento anzi potrebbe anche avere un atteggiamento magari di questo tipo ma in contrasto con quello di mizuki per arrivare poi a lottare una contro l'altra per una possibile shot titolata sia sempre lì poi i nomi sono quelli non abbiamo 284 mila non ci possiamo mandare arunaneku o pomarajuku dobbiamo per forza mandarci quelli lì comunque stavate a vedere il mio watanabe aveva battuto a risuendo nel nel pericolo ok ce l'avamo persi un nome va bene ma comunque la finale è venuta abbastanza bene mi è piaciuta meno delle semifinali però ci sta come dice alla fine la costruzione anche se non non mi piace come tipo di costruzione l'hanno fatta bene a senso e arriva anche con qualcosina in più visto che comunque loro hanno già yuka e shoga hanno lottato a giugno sì anche la cyber fight arriva con qualcosina in più alla prossima sfida titolata vediamo un po autobus diciamo che ciò che aveva perso per strada lo ha recuperato in concentrazione e questo la farà vincere contro shoko nakajima il prossimo giro anche la che comunque lei da un po che non ha il titolo in singolo e quindi shoko nakajima non ha fatto un regno così importante così bello sai che invece magari yuka può fartelo perché comunque abbiamo visto che come sfidante ha sempre fatto molto bene come campionessa immagino possa fare altrettanto lo vedremo lo vedremo perché a ottobre avremo una nuova campionessa in tokyo joshi e sarà yuka sakazaki io ve lo dico adesso così lo sapete c'è poco da fare tutto sommato questo torneo ha evidenziato i soliti problemi della tokyo joshi cioè qualsiasi tipo di torneo potete saltare tranquillamente la prima fase sicuramente molte volte prima e seconda fase possono essere saltate senza grosse difficoltà crescendo nel torneo si delinea molto di più la storia che vogliono raccontare e la persona che tendenzialmente può arrivare a vincere ma la qualità dei match si alza incredibilmente la cosa di capire subito ci può essere la vincitrice un po mi dispiace comunque l'abbiamo beccata anche l'anno scorso quasi subito l'anno prima se guardando io poi l'ho recuperata però si capiva un pochi volevano su chi puntavano quindi un po mi dispiace però se hanno deciso di farla così è vero che hanno anche pochi nomi cioè le prime fasi le puoi saltare perché hai dei match che servono a poco poi magari a un aneco con tutto il bene che uno può pure avere un aneco sai che non ti fa il match e difficilmente ti passa il turno sì 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 poi che ne so una raku magari contro mio yamashita può anche sorprenderti per quello che fa di solito raku però questo non giustifica il fatto di perdere tanto tempo nel guardare dei match che comunque sono molto più bassi di livello rispetto a quello che vedi invece nelle fasi più finali tutto sommato però mi è piaciuta questa cap sono sempre convinto che dato che josh abbia un problema di coraggio piuttosto grande e che se riuscisse a migliorare questo problema di coraggio probabilmente avremo davanti una federazione di altissimo livello con cose molto molto belle tu un po cosa dici di questo torneo in generale né più o meno è quello che hai detto te cioè le prime fasi ok va bene ma poi tranquillamente evitarle mentre invece poi diciamo che dai quarti in poi consiglio comunque di seguirli perché in realtà i match sono validi a buona struttura vengono bene quindi hanno anche più minutaggio che poi li aiuta perché comunque all'inizio avendo molti match è ovvio che devi strangere un po sui tempi e se non hai delle atlete così valide quando strangi sui tempi poi ti viene delle robe un po bruttine anche perché non puoi far finire tutto per roll up quindi quindi va così va così va bene direi che per questo torneo della tokyo joshi è tutto per questa puntata di il riatto è tutto siamo stati un pochino sotto i 20 minuti ma non preoccupatevi perché ne avremo altrettanti forse qualcosina di più anche per un episodio dedicato ai primi tre giorni dell'an one victory il torneo più importante del giappone quindi non mancate anche a quell'appuntamento intanto grazie amici per aver partecipato a questa puntata dedicata alla vittoria di yukasa kazaki della princess cup quindi grazie di cuore grazie a te è stato un piacere stato un piacere anche da parte mia è stato bello rientrare sono molto felice adesso voi non dovete fare altro che aspettare al prossimo episodio saremo qui a parlare ancora di puro reso grazie di cuore ci risentiamo alla prossima